Ben trovati, apriamo la seconda parte del nostro telegiornale con la pagina dedicata alla cronaca. I carabinieri della stazione di Santa Croce e Camerina hanno arrestato un tunisino di 27 anni perché evaso dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto. L'uomo è stato trovato fuori dalla sua abitazione ieri pomeriggio intorno alle 17. Si trova adesso alla casa circondariale di Ragusa. E ci spostiamo ora a Modica doveva trasformarsi in un complesso di palazzine e locali commerciali ma è stato posto sotto sequestro. I carabinieri della città della Contea infatti hanno posto i sigilli nell'area dell'alveo del torrente nel quartiere Fontana. Vediamo il servizio. Sequestrata l'area dell'alveo del torrente Pozzo dei Pruni al quartiere Fontana in territorio di Modica, i carabinieri del team di tutela del patrimonio ambientale del Comando Provinciale di Ragusa insieme ai carabinieri della Compagnia di Modica hanno posto sotto sequestro la zona di proprietà del Comune di Modica e transennato l'intera area. Nella zona sottostante l'ex foro Boario, lo ricordiamo, è in progetto la costruzione di alcuni palazzi per una spesa complessiva di 17 milioni di euro a compartecipazione pubblico-privata, 6 milioni e mezzo dalla regione, 10 milioni dalla società privata ed il Z di Zaccaria e 484 mila euro dal Comune. La Procura della Repubblica di Modica però ha aperto un'indagine, probabilmente a seguito della controversia tra residenti e Palazzo San Domenico, dopo i primi interventi che dovevano portare alla realizzazione del piano di edilizia abitativa che comprende 7 edifici di civile abitazione formati da circa 50 appartamenti e alcuni locali commerciali. Le preoccupazioni sollevate dai cittadini riguarderebbero la presenza di Eternit sbriciolato e il rischio idrogeologico a seguito del restringimento del letto del fiume operato da un privato. Nelle prossime ore potrebbero già comparire i primi nomi sul registro degli indagati. Ed ancora un'altra notizia di Cronaca. Cronaca è stato contestato il tentato omicidio a Giovanni Biazzo, un 24enne pozzallese, arrestato giovedì mattina dai carabinieri di Pozzallo e della compagnia di Modica, insieme al coetaneo Vittorio Pizzo, sorvegliato di pubblica sicurezza, accusato invece di spaccio di droga. Pizzo avrebbe ceduto della droga alla convivente di Biazzo. Giovedì mattina l'uomo si sarebbe recato a casa di Biazzo per chiedere i soldi in cambio, ma sarebbe stato accoltellato al volto dal Biazzo. Sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste per il sindaco di Pozzallo, Giuseppe Sulcenti, e per la sua giunta dall'accusa di falso in bilancio. Rinviati invece a giudizio gli altri cinque indagati, tre revisori dei conti e due dirigenti comunali. Vediamo. Rinvio a giudizio per cinque imputati nel processo per falso in bilancio che ha visto coinvolti amministratori funzionari e revisori dei conti del comune di Pozzallo. Si tratta di Anita Inì, Salvatore Barrere, Chiara Iozzia, revisori dei conti, Giovanni Gambuzza e Giovanni Modica, dirigenti comunali rispettivamente del settore tributario dell'ente e del settore finanziario. Prosciolti invece il sindaco Giuseppe Sulcenti e la giunta comunale di Pozzallo, perché il fatto non sussiste. La decisione è stata presa dal giudice per le udienze preliminari del tribunale di Modica, Lucia De Bernardin. L'accusa è di falso in bilancio perché gli imputati avrebbero falsamente attestato nel bilancio consuntivo relativo ai periodi 2008-2009 entrate tributarie derivanti da recupero e elusione ICI non corrispondenti a quelle reali. Le somme risalirebbero al periodo 2003-2004 per 1.900.000 euro e 2.300.000 euro per il periodo 2005-2008. Le prime non corrisponderebbero al vero secondo quanto accertato dal recupero e evasione ICI, mentre le seconde sarebbero non corrispondenti a quelle accertate dalla Guardia di Finanza. I cinque sono stati rinviati a giudizio il prossimo 26 ottobre. A Scicli, i gnoti si sono introdotti nella notte tra il 26 e il 27 aprile all'interno del plesso scolastico del secondo circolo didattico di via Vasco de Gama. Il dirigente scolastico ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Scicli. I ladri hanno prelevato la somma di 112 euro, 87 buoni pasto ed un lettore cd per un valore complessivo di 350 euro. Si tratta del primo furto registrato nella scuola. E ora cambiamo decisamente argomento. È stata inaugurata a Ragusa la nuova struttura a fianco della Questura che accoglierà i cittadini immigrati che dovranno sbrigare le proprie pratiche nell'ufficio immigrazione del capoluogo. Vediamo. Una struttura per accogliere i cittadini immigrati che devono aspettare il proprio turno davanti all'ufficio immigrazione della Questura di Ragusa. Ieri c'è stato il taglio del nastro alla presenza delle autorità civili e militari del capoluogo del vescovo di Ragusa Paolo Ursa del console generale di Tunisia Palermo Manzurre che ha ringraziato a Ragusa per l'alto senso dell'ospitalità dimostrato verso i cittadini extracomunitari che da oggi non saranno più costretti ad attendere all'esterno di essere ricevuti negli uffici della Questura. A finanziare l'iniziativa il Rotary Club del capoluogo Ibleo. È un segno di civiltà che siamo riusciti a dare grazie all'impegno del Rotary, del comune che ha dato il suolo ma soprattutto l'impegno finanziario di privati, di un club service che è arrivato là dove il pubblico non riusciva a dare soddisfazione. È una bella cosa, è un gesto di civiltà perché gli stranieri finalmente potranno avere un riparo durante le lunghe attese per accedere agli uffici dell'immigrazione. Scadenza prorogata al 5 maggio prossimo per la presentazione delle istanze di riduzione dei tributi locali al comune di Vittoria. Per ogni chiarimento ci si può rivolgere alla direzione tributi del comune negli uffici di via Carlo Alberto numero 18. La direzione tributi è aperta al pubblico il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 13, mentre il martedì e giovedì è aperta dalle 16 alle 18. Il numero di telefono è 0932514500. L'email è ufficiotributi.gov.it. E torniamo a Comiso dove ha preso il via ieri pomeriggio un workshop di fotografia dedicato ai professionisti e agli amanti degli scatti. Una tre giorni caratterizzata da incontri, scatti nelle location più suggestive della città e da serate di gala dedicate alla musica, all'arte e naturalmente alle foto. Vediamo. Arte e passione nel digitale. Ha preso il via a Comiso la tre giorni dedicata all'arte e della fotografia. Venerdì pomeriggio l'inaugurazione della manifestazione, con un incontro culturale formativo durante il quale sono state proiettate le slide dei partecipanti al contest fotografico. Ma arte e passione nel digitale è un evento che racchiude l'arte non solo fotograficamente, ma anche su altri campi come la pittura, la musica, la moda e il teatro. Sono contento della presenza, della forte presenza non solo di fotografi, ma di artisti in generi, di professori, di alunni e di tutto quello che appartiene in realtà all'arte. Abbiamo anche il forte piacere di avere con noi Andreas Groelich, che è un importante gallerista che viene dalla Germania. Lo abbiamo invitato appunto anche per raccontare, per gemellare dell'arte che si sviluppa in Germania. Nella giornata di oggi, previste foto in esterna nei luoghi più suggestivi del centro storico della città casmenea, è sessione di post-produzione con la serata di gala, dove insieme alla fotografia ci saranno anche la musica, la pittura, il cinema, il teatro e verranno premiate le slide dei partecipanti in concorso. Ho conosciuto Enzo in uno dei suoi workshop, lui ormai organizza workshop e corsi fotografie da tanti anni, quindi conosco la sua professionalità, conosco la sua bravura nell'organizzazione e quindi l'ho bloccato per aprire tutto questo anche ai fotomatori. Io sono un fotomatore, sono un informatico, però fotomatore tramandato e quindi ho voluto utilizzare sia il suo lavoro che portare avanti questo progetto per aprire l'arte un po' a tutti. Nell'ambito dei percorsi di educazione alla cultura della legalità, le classi quarta A e B dell'Istituto Comprensivo Capuana di Giarratana hanno visitato il comando dei carabinieri di Ragusa. I 30 alunni, accompagnati da due maestre, hanno osservato il funzionamento della minore unità dell'arma, i mezzi e le apparecchiature utilizzate dai carabinieri e hanno approfondito tematiche quali bullismo, abuso di droga ed alcol, uso distorto di internet. La visita è stata anche l'occasione per sottolineare i principi di legalità. Entrano nel vivo oggi e domani ad Acate i festeggiamenti in onore di San Vincenzo. Oggi pomeriggio è prevista la sfilata dei cavalieri di Biscari, dei cavalieri della scuderia Murgonissena e della banda di Acate. Stasera alle 22, concerto di Paolo Meneguzzi. Domani, domenica, a partire dalle 20, ci sarà la processione per le vie cittadine del simulacro di San Vincenzo. E ora una notizia di sport, parliamo di calcio. Domani, ultima giornata del campionato di eccellenza. Serragusa, già promosso in Serie D, ospiterà in casa la Cicatena. Il Vittoria, invece, giocherà con il Messina. Il Comiso alla ricerca di un punto per la salvezza giocherà a Taormina. Il Modica, infine, è impegnato a Catania contro l'Atletico. In chiusura, vi ricordo che oggi alle 15.20, 17.40 e 21, andrà in onda su Free TV lo speciale realizzato dalla nostra redazione sulla cittadinanza onoraria conferita a Rosario Crocetta, ex sindaco di Gela, oggi europarlamentare, dal comune di Vittoria, con una cerimonia che si è tenuta lo scorso 24 aprile. E con questa notizia è tutto, ma prima di salutarci, vi ricordo che potete continuare a seguirci andando sul nostro sito www.freetvonline1.it. Abbiamo anche la nostra pagina Facebook, Free TV Comiso. Grazie e buon sabato. Grazie e buon sabato.